Quando io andai a Madrid e vidi per la prima volta questo salone, anche lì si chiamava VWOS, il veicolo d'occasione, e loro sono vent'anni che lo fanno con grande successo. E abbiamo detto benissimo, perché non proviamo a farlo anche a Roma? Perché non è solamente un incontro ovviamente tra domanda e offerta, ma anche uno sviluppo per migliorare il parco, per fare un discorso più ecologico, insomma tante cose c'è dietro questa manifestazione. Santiago. Stiamo sicuri che come diceva in Casablanca, questo è il principio di una larga mista e il principio di molti progetti juntos. Un'esibizione come questa di Roma rappresenta un'opportunità per mettere insieme la domanda e l'offerta, come si usa a dire in gergo di marketing, e soprattutto innescare un meccanismo virtuoso che aiuta al rinnovamento del parco circolare. Noi abbiamo creduto da subito in questa iniziativa, nella piena consapevolezza dell'importanza della valorizzazione del mercato automobilistico ai fini della sicurezza stadale. Il nuovo e l'usato sono due facce della stessa medaglia e secondo me l'usato troppo spesso si sottovaluta, tanto a livello diciamo di fieristico magari, e questa è la prima volta che in Italia c'è qualcosa del genere, tanto a livello di comunicazione e il nostro impegno qui come OmniAuto è quello di fare divulgazione. Eccola qua! Buongiorno, sono Andrea De Santis di Automobile Club d'Italia. Sono Giovanni Davino di ACI Global, mi occupo della gestione tecnica della rete. Sono Antonella Corrado, direttore marketing di ACI Global. ACI Global è la società del servizio dell'ACI, quindi che eroga in primis il soccorso stradale, ma anche tutta una serie di altri servizi per l'auto. E' con piacere che abbiamo accolto l'invito di essere qui presenti a VO, il salone del veicolo d'occasione, proprio perché abbiamo l'opportunità di intanto andare a verificare con un check-up ad ammissione tutte le auto che sono in vendita in questo salone. Abbiamo effettuato oltre 200 verifiche, verifiche di carrozzerie, di interni, di pneumatici, tappezzerie, cruscotto e la motoristica, nonché eventuali spie luminose che potevano presentare le vetture da mettere all'evento. Abbiamo portato qui tutte le nostre anime e tutte le nostre possibilità per poter realizzare il principio del VO che viene dalla Spagna. Si può arrivare qui in fiera, scegliersi l'auto che si preferisce e dopo aver preso accordi ovviamente con il venditore, passare da noi per il passaggio di proprietà, per verificare la situazione dei bolli, assicurarla direttamente a un prezzo assolutamente conveniente e volendo poterla portare a casa o farsela portare dagli addetti di ACI Global. Attraverso i nostri servizi siamo in grado di portare la macchina fino al domicilio dell'acquirente. Quindi diciamo un servizio completo per tutti i visitatori di questa fiera. Sono Claudio Catania, il responsabile della vendita usato della società Lysis, società di noleggio a lungo termine del gruppo Fiat, in uno specifico società appartenente al gruppo FECCIA Bank. Siamo qui alla fiera di Roma per presentare il nostro usato. Presentiamo macchine che vanno sia dalla vettura piccola che al top di gamma, con vetture che vanno circa dai 12 mesi di vita fino ai 48. Presentiamo per la prima volta anche il noleggio a lungo termine su veicoli usati. Ci potete raggiungere sul nostro sito www.lysis.com dove troverete tutte le nostre offerte sia sul noleggio che sulla vendita dei veicoli usati. Sono Stefano Giorgi della Mercedes-Benz Roma e responsabile del settore usato. Siamo nella fiera di Roma dove abbiamo in esposizione le nostre vetture, le Smart 4-2 e 4-4 di ultima generazione e un'ampia gamma di Mercedes, partendo dalla classe A, la B, la classe C, tutta la gamma che possiamo esporre. Abbiamo delle vetture in test drive al di fuori del padiglione, dove i nostri clienti possono provare l'ebbrezza di guidare un Mercedes o una Smart. Sono Mauro De Locu della concessionaria Fiori. Siamo qui alla fiera di Roma, padiglione, veicoli e occasioni. Abbiamo tutti i marchi che rappresentiamo, Fiat, Renault, Dacia, Abarth e Hyundai. Devo dire che c'è un grande successo di pubblico e di interesse verso il nostro prodotto. Fiat, Renault, Dacia, Abarth e Hyundai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Altr astro.